TG Vicenza Io penso una cosa, che i punti toccati siano punti interessanti, penso al tema dell'economia, rilancio dell'economia, il tema del sociale, il tema della sicurezza, dell'immigrazione, dell'autonomia. Sono le infrastrutture, noi difendiamo le nostre infrastrutture, per cui da Veneto dico che sono le infrastrutture, mantenendo l'alveo della legalità e del controllo spasmodico, continuiamo a procedere. L'autonomia è uno dei caposaldi del contratto di governo e tanto basta a Luca Zaia per dirsi soddisfatto della mediazione 5 Stelle-Lega, un tassello su cui Zaia ha da sempre spiegato di non essere disposto a cedere. E ora che il governo ha trazione Carroccio e 5 Stelle non è più una remota ipotesi ma una concreta possibilità, anche il progetto di autonomia del Veneto sembra intravedere un nuovo percorso che potrebbe aprirsi, una sorta di strada così in discesa da far ipotizzare a qualcuno anche una nuova calata romana di Zaia alla guida di un ministero di peso. Il diretto interessato taglia corto e lascia intendere che non c'è alcuna possibilità in questo senso, i toni sono ancora una volta perentori. No, guardate, il mio telefono è sempre tranquillo, non scotta, nessuna telefonata, nessuno scrive, nessuno telefona, perché hanno capito che io mi devo occupare del Veneto. E anzi, non dormono solo i tranquilli perché noi abbiamo l'autonomia e un istante dopo che il governo si sarà formato noi presentiamo il conto sull'autonomia, chiaro per tutti questo. Le prossime ore saranno quindi cruciali non solo per la formazione del nuovo governo ma anche per le ripercussioni che questo ha già promesso prima ancora di nascere a nord-est. Gettare il cuore oltre l'ostacolo, lo chiedevano ai tifosi che sabato in corteo hanno raggiunto il menti dove si giocava il play-out col Sant'Arcangelo e i biancorossi li hanno accontentati. Certo non è finita qui ma è un primo segnale che arriva dal campo. Il lane c'è ancora e stringe i denti, non si vuole lasciare sfuggire di mano la Serie C. Fisicioso di che andrà bene perché penso c'è anche la motivazione di Renzo Rosso che arriva, speriamo, e quindi è una carica per tutti, calciatori e tifosi. Una questione di orgoglio ma anche forse un messaggio a Renzo Rosso che per i vicentini è ormai l'unico che possa prendersi carico dello storico club. Vedo molto positivo l'ingresso di Renzo Rosso nella proprietà del Vicenza Calcio, potrebbe dare una ventata di novità importante per Vicenza. Molto positiva, io sono tifoso che è abbonato quindi siamo contenti che arrivi. Speriamo che compri anche il Vicenza e che faccia la fusione col Bassano, probabilmente ci saranno anche dei risultati. Vicentini pronti a stendere il tappeto rosso per Mr. Diesel e non manca chi guarda a come i cugini bassanesi vivono il possibile affare. Sicuramente è una cosa positiva, se porta a capitali, nuove forze, fresche e nuove idee. Mi resta il dubbio su quello che penseranno i tifosi del Bassano che hanno un'ottima realtà, arrivata fino alla Serie C e magari mugugneranno un bel posto al pensiero. Assalto in villa, l'ultimo, l'ennesimo colpo di una criminalità scatenata. Tra le tranquille e silenziose campagne di Sossano sono le due di notte quando tre banditi incappucciati penetrano nella casa di un vedovo 76enne. La bifamiliare non è isolata ma la gang non ha scrupoli. In paese la gente dorme e anche la vittima dovrebbe essere a letto, invece il padrone di casa è sveglio e i banditi se lo ritrovano di fronte. I malviventi lo immobilizzano, parlano con accento dell'est, iniziano a cercare oggetti di valore ma l'uomo riesce a urlare. Il figlio, che abita accanto, assessore conosciuto in paese, arriva in pochi istanti sorprendendo i tre banditi. Inizia uno scontro violento, l'uomo prova a difendersi ma i malviventi lo picchiano col manico di un cacciavite. Poi in pochi istanti fuggono dileguandosi nella campagna, protetti dal buio. Non riescono a portare via niente ma questa notte da incubo non è la prima e purtroppo non sarà l'ultima. Non conta l'orario, la criminalità può colpire sempre. Come sabato mattina a Brogliano, dove brucia ancora l'assalto lanciato dai banditi, a un'altra villa abitata sempre da anziani, due nonni settantenni sequestrati con il nipotino di 11 mesi. Da Brogliano a Sossano, dall'alto al basso Vicentino, nel giro di poche ore, due rapine e due assalti criminali. A Sossano, la scorsa notte, i carabinieri sono stati allertati quando ormai era tutto finito. Il figlio del 76enne è stato medicato all'ospedale di 90 per le ferite riportate durante lo scontro violento con i malviventi. E gli è andata bene, poteva finire peggio se fossero stati armati. In questi casi le forze dell'ordine sconsigliano di intervenire direttamente e suggeriscono di chiamare il 112 o il 113 per un'azione tempestiva delle pattuglie. Ora è emergenza. Sossano è sotto l'assedio della delinquenza. La famiglia vittima dell'ultima rapina in cinque anni ha subito 18 colpi. Un'esplosione criminale di fronte alla quale le istituzioni, la giustizia, la politica sembrano impreparati. Un'allarme da non sottovalutare. Tutti possiamo essere vittime, nessuno è al sicuro. Tragedia sfiorata. Il centro storico di Vicenza perde i pezzi. Sono le otto e mezzo di una mattinata di pioggia quando da un terrazzo di Corso Palladio si stacca un blocco di pietra che piomba a terra da una decina di metri di altezza proprio accanto a una donna che sta passando in quel momento. E' il titolare della caffetteria di fronte a sentire il botto e a lanciare l'allarme ai vigili del fuoco. Si è stato da chiamare i vigili del fuoco questa mattina perché mi sono accorto che è una signora urlata che l'ha sfiorato la testa quindi poi ho sentito il tonfo e sono uscito a vedere cosa è successo. E già il cuore di Vicenza sta letteralmente andando a pezzi. Ma quella di oggi poteva essere una tragedia. Il blocco di pietra precipitato dal balcone pesa almeno otto chili e se avesse colpito in testa qualcuno sarebbe sicuramente stato letale. Sono quattro ragazzetti che si riparavano mentre pioveva però loro sono stati via prima per fortuna. E siamo in Corso Palladio. Il fatto che Vicenza cade a pezzi qui nel cuore del turismo e del passeggio cittadino è il segnale di una città degradata. Anche perché non è la prima volta che accade una cosa del genere. L'ex procura di Vicenza sta qua tra l'altro. Però due mesi fa circa è cascato sempre un cornicione. Sì, è arrivato il vigile del fuoco. Sesso discorso, è arrivato il vigile del fuoco, transennato, tutto quanto fatto di dovere. Vabbè al momento e poi dopo chi si è visto si è visto. Però può capitare un momento all'altro lo stesso che cade. Quindi non è che non capiti di nuovo voglio dire. Anche perché non sono stati fatti i lavori, non sono stati nessuna impalcatura, niente. Oggi sul posto in Corso Palladio sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno transennato l'area. Noi di Rete Veneta lo ripetiamo da mesi. La città ha bisogno di nuova linfa, di essere rilanciata turisticamente e commercialmente. Bisogna ripensare la ZTL, bisogna ragionare su un nuovo sistema di parcheggi. Ma innanzitutto bisogna mettere mano ai palazzi che hanno bisogno di manutenzione. Una città così bella, cioè vuol dire un centro meraviglioso che ha perso un po' di valore, onestamente. Stiamo attenti al prossimo sindaco, chiediamo che faccia qualche passeggiata col naso in su per vedere cosa sta accadendo. Inferno lungo l'autostrada a 31, martedì alle 12. Silenzio e commozione tra 90 Vicentina e Sossano, mercoledì mattina. I due paesi hanno saputo soltanto una manciata di ore prima, nella tarda serata, che Luciano e Arianna Rossetto, che Florio Pozzo, erano tra le vittime di quell'inferno. E le due comunità, a pochi chilometri l'una dall'altra, andate a letto stordite per la notizia, si sono risvegliate commosse e addolorate. È veramente stato un colpo. C'è stato molto dispiacere anche da parte della famiglia, purtroppo sono cose che non si vorrebbero mai sentire. Una notizia così non può che lasciare un po' sconvolti, insomma. Oggi se ne parlava un po' in paese? Tutto il paese ne parlava. È una cosa così, è una cosa che ti lascia il segno. L'ho saputa sì ieri sera, però mi ha colpito molto. Arianna, soltanto 17 anni, un futuro, tutto da scrivere, un presente, fatto di scuola, amici e tennis. Essendo qui della zona tutti sapevano chi era e sapevi che era una ragazza solare, dispiace molto infatti. Oggi c'è stato un minuto di silenzio. Le scuole di 90 hanno fatto un minuto di silenzio, si sono fermate. Mentre in via Maddalena, nella casa di Luciano e Arianna, il silenzio si faceva sempre più pesante. Un silenzio interrotto per qualche minuto soltanto dalla visita del sindaco. Anna, moglie e madre, in casa col figlio più grande e la suocera piange un marito, piange una figlia. Un dramma che è inquantificabile, in quanto una ragazza di 17 anni è il papà, non ci sono neanche parole insomma per quantificare. Una famiglia distrutta. Una famiglia distrutta sicuramente. E nel giorno del funerale, a 90, sarà proclamato il lutto cittadino. Intanto nella vicina Sossano tutti ricordano il loro artista Florio Pozzo, 60 anni, nato in Australia ma rientrato al paese natale della famiglia che era adolescente. Non ho mai visto la neve, siamo andati sul basubio. Si è tuffato, non erano preoccupati, io ero di un erbilingua di Colorello, preoccupati per recuperare questo ragazzo che non avevamo visto la neve, si è tuffato dentro. Musicista, artista, appassionato. Un tipo gioioso, ricco di sentimenti, di poesia. Basta, è una cosa impressionante, siamo rimasti scossi e sono rimasto scioccato, è proprio una cosa... Improvvisa e in attesa. Eh sì. I soldi per farlo li ha. E se lo augura per lo sport? Certo che me lo auguro, però non sono molto d'accordo che il Bassano scompaia. Renterò su Vicenza, se lo augura? Me lo auguro perché spero che tiri sulla squadra, che riesca, portando qua il Bassano però. Vicenza è una società storica quindi sarebbe importante che si riprendesse, ecco, questo sì. Quindi si augura che davvero entri anche il signor Diesel? Sì, come no, certo. Potrebbe essere un buon cambiamento e speriamo che Vicenza rinasce, ecco. Spero per lui, spero per tutti quanti perché comunque Vicenza deve avere la sua squadra nel cuore come lo era una volta. Quindi ben venga Renzo Rosso. Ben venga, per me sono favorevole. Penso che sia una bella cosa per il Vicenza, non so quanto contenti siano quelli di Bassano, ma penso che per il Vicenza sicuramente sarà una bella esperienza. Magari i soldi li ha, l'iniziativa pure, speriamo bene. Quindi ben venga Renzo Rosso. Ben venga. Ben venga, ben venga qualcuno che prenda in mano la squadra, perché no? So che ci sono dei problemi, che avrebbe anche Bassano, non so cosa succede, potrebbe, non so. Se si riesce a sbrigare questa pratica, diciamo, però ben venga uno che ha dei fondi, che potrebbe portare Vicenza in Serie A in un futuro. Soprattutto perché è Veneto e quindi capisce bene la piazza, i tifosi. Io che ci abito, sì. Penso che ne andrebbe bene a molti, non solo a me. Contato a Pedemuro San Biagio, la proposta è di farne una ZTL a tempo. Che ne pensa? Sono perfettamente d'accordo. Io abito qua e quindi quando ho degli ospiti magari posso farli arrivare fino a casa oppure anche per la sicurezza che purtroppo ormai manca. Il Corso Focazzaro è una via morta, la più bella via di Vicenza è una via morta. Lo capisco per lo smog, per quelle cose lì, però dopo fanno passare tre pulme lunghi dieci metri con tre persone, ogni mezz'ora che c'è tre pulme che passano per San Biagio. Stavo qua 15 anni fa, proprio lì davanti alla trattoria. Ed era quel tempo, era libera? Stavano in Italia libera tutto quanto, qua si poteva parcheggiare davanti alle aziende. Era molto meglio prima. Se no questi commercianti poveri muoiono e non possono più sostenere le spese, quindi sarei anche d'accordo su questo. Colpisce anche il Vicentino la tragedia ferroviaria caduta lungo la tratta Torino-Ivrea. Pesante il bilancio, due morti e 23 feriti. A perdere la vita oltre al macchinista del treno regionale che ha investito il tir fermo sui binari, anche l'autista del mezzo di scorta tecnica dell'auto articolato. Si tratta di un 63enne di origine romena che lavorava per la G&G Western Roads SRL, con sede a Tiene in via 51esimo Stormo. La ditta Vicentina offre servizio di scorta a mezzi pesanti, con carichi ingombranti e per trasporti eccezionali. In questo caso il tir arrivava dall'Austria. L'autista, un 39enne lituano, è stato iscritto nel registro degli indagati per disastro ferroviario. ditta che si occupa anche di tutte le pratiche permessi e autorizzazioni necessarie. Alla G&G a Tiene il giorno dopo il drammatico incidente nessuno ha voglia di parlare. Si continua a lavorare anche perché, ci dicono al momento o a loro, non è stato comunicato ancora nullo di ufficiale, mentre al riguardo stanno interessando l'avvocato della ditta. Non è ancora chiara la dinamica del grave incidente che, a seguito dell'impatto del treno regionale con il tir, ha visto anche deragliare alcuni convogli. La procura di Ivrea ha aperto un'inchiesta. Secondo una prima ricostruzione e i racconti dei testimoni, il semaforo del passaggio a livello sarebbe diventato rosso quando il tir era a metà dell'attraversamento dei binari e lo stesso autista avrebbe, a quanto pare, cercato di fare marcia indietro, ma il mezzo, a questo punto, sarebbe rimasto incastrato nelle sbarre. Poi, il forte boato, nonostante il vano tentativo del macchinista di azionare il freno di emergenza. Ora si tratta di capire se, per un ritardo nel passaggio a livello o per un difetto quando hanno dato il segnale, il treno è arrivato e si è trovato di fronte il convoglio eccezionale. Al vaglio degli inquirenti, dunque, anche le comunicazioni intercorse tra Tranitalia e i gestori del trasporto eccezionale, la G&G di Tiene, che avrebbe dovuto comunicare con largo anticipo il passaggio del mezzo pesante. Nessun territorio si può sentire perfettamente al sicuro. Sarebbe un esercizio banale pensare che è accaduto in una provincia piuttosto che in un'altra, perché purtroppo l'efferatezza di queste persone non conosce confini, quindi per noi è un impegno costante e quotidiano quello lì di tenere molto alta l'attenzione per cercare di assicurare al massimo il territorio. Un'efferatezza che non ha confini. Banditi che a Sossano non hanno esitato a picchiare il figlio intervenuto in supporto dell'anziano padre e reso inoffensivo dai banditi che intanto frugavano in casa. La gente ha paura e chiede sicurezza immediata alla risposta delle forze dell'ordine. Il nostro dispositivo è sempre più tarato verso anche questi episodi di violenza efferata che ci sono nelle case. Va da sé che non è così semplice perché si tratta di criminali che entrano nei momenti più strani, nei momenti più impensabili nell'abitazione. Comunque anche questo non sarà tenuto in debita considerazione. La storia lo ricorderà come il primo impegno del Premier incaricato. L'avvocato difensore del popolo italiano, come si definisce Giuseppe Conte, ha accolto i risparmiatori feriti dal crack di BPV e Veneto Banca. Ecco le foto dell'incontro. Ce le manda Patrizio Miatello in tempo reale da Montecitorio. La tecnologia annulla le distanze e il nuovo corso della Terza Repubblica riparte proprio dai social, dagli annunci online, dalla trasparenza digitale. Giuseppe Conte fa capire subito che a Roma l'aria è cambiata e chiude la sua prima giornata da presidente incaricato stravolgendo gli schemi e aprendo le porte alla delegazione di risparmiatori. L'avvocato del popolo italiano mette in chiaro che queste persone hanno diritto a essere ascoltate dalle istituzioni, chiedono il rispetto dei loro diritti e che il loro risparmio venga tutelato, essendo frutto spesso di sacrifici. Questa tutela sarà uno dei principali impegni di questo governo, il governo del cambiamento. Chi ha subito truffe o raggiri sarà risarcito. Musica per le orecchie degli ex soci di BPV che hanno spiegato l'urgenza di un fondo per affrontare le emergenze più gravi, i casi più disperati. L'incontro dura un'ora e mezza ed è il preludio del faccia a faccia di oggi tra il futuro premier e il governatore di Banca d'Italia, Ignazio Visco. Inizia a muoversi qualcosa. Dalla Capitale, Patrizio Miatello, promotore delle associazioni unite per il fondo, invia a Rete Veneta questo video pieno di speranza. Abbiamo chiesto urgenza per l'immediato rimborso ai risparmiatori traditi, in quanto c'è una emergenza sociale in atto. Lo stesso ha confermato che nel contratto di governo è previsto il rimborso totale ai risparmiatori traditi. Noi siamo fiduciosi, ringraziamo il premier e gli auguriamo un buon lavoro. Via la ZTL dal centro, lo chiedono i Vicentini, Rete Veneta sostiene questa proposta. Dopo Corso Fogazzaro, Piazza San Lorenzo, Contra Pedemuro, Contra Santa Caterina e Piazza delle Erbe, oggi siamo stati in Viale Eretenio e Contra Carpagnon. Noi che viviamo qui, io vivo in Mure Palamaio, una disperazione, col traffico limitato. Io non ho più amici che vengono a casa mia per il problema dei parcheggi. Dopo sta morendo il centro, il centro col traffico limitato sta morendo. Ognuno che deve entrare qua con un furgone, con qualunque cosa, deve sempre andare a fare un permesso, non c'è niente da fare. Certo che qua i negozi in centro ci vorrebbe gente che arrivasse, perché se no non vendono. Poco passaggio, meno clienti e i negozianti ne soffrono. Parcheggi strapieni e cari, ce lo racconta anche chi qui ci lavora. Io vengo a lavorare qua, proprio abito vicino, no, abito dove c'è la zona industriale. Vengo a piedi perché non si può parcheggiare la macchina, è troppo costosa per chi lavora, non può permetterci di pagare il parcheggio, insomma. O si lavora o si paga il parcheggio. Disaggi quotidiani per raggiungere il centro città, che l'eliminazione della ZTL di giorno potrebbe alleggerire. Capisco che sia molto più complesso da gestire in termini di io stessa per andare a fare la spesa, è più complesso. La possibilità di muoversi un po' di più, perché qui molti si lamentano che non arriva più nessuno in centro, ma è un po' difficile arrivarci. Io me la faccio a piedi normalmente. Un disagio soprattutto perché in città vecchia abitano vecchie persone e non possono con macchina, con niente, viaggiare. Aspettiamo il nuovo governo per sapere che cosa ne farà. Certo da migliorare sarà questa città e anche questa ZTL da migliorare. Insomma, i cittadini ripetono, bisogna togliere la ZTL di giorno e il nostro impegno al loro fianco continua. Queste erano le notizie per quanto riguarda la provincia di Vicenza e il nostro comune. Naturalmente i fatti più importanti della settimana che si è appena conclusa. Io vi ringrazio per la vostra cortesa attenzione, per essere stati in nostra compagnia e vi auguro un buon proseguimento. Ci vediamo presto.